i cinque cammini più belli da fare in italia secondo italia online validi per questa fine 2021 ma anche per tutto il 2022 il sentiero del viandante 45 chilometri sulla costa orientale del lago di como che visite avremo sentiero dei ducati tra emilia romagna e toscana 160 chilometri 11 tappe tra quattro castella reggio emilia fino a sarzana la spezia liguria il cammino di dante sconosciuto fin tanto che la lonely planet non l'ha nominato da ravenna a firenze 400 chilometri più di 20 tappe un bel giro sentiero degli dei che non è la via degli dei ma è in campagna costiera amalfitana quindi panorami pazzeschi per un giro facile e fattibile da tutti 10 chilometri chiudiamo con calabria coste to coste con la k calabria con la k un sentiero che ci permette di andare da una parte all'altra dal marionio al mar tirreno in 55 chilometri e tanti borghi di mare 10 chilometri chiudiamo con calabria coste 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 con calabria Grazie.